ben ritrovati con un nuovo appuntamento di oggi della rassegna stampa in studio con voi rosario moreno iniziamo subito con gli articoli di oggi questa seconda edizione coronavirus mascherine pagate e mai consegnate indaga anche lugano anche la giustizia svizzera si sta occupando delle mascherine italiane pagate ma mai arrivata alle regioni che le avevano ordinate ieri la guardia di finanza si è presentata negli uffici della protezione civile del lazio in via laurentina a roma intanto a lugano il ministero ministero pubblico del canton ticino sta prendo un'indagine sulla exor coronavirus le mascherine a 0,5 euro sono merce rara la federfarma scrive che forse scorte finite e non le trovano al prezzo giusto l'ordinanza che ha tagliato il costo del dispositivo ha mandato in tilt il mercato nella settimana precedente alle riaperture che ha potuto nel dubbio dal lunedì ha annullato tutti gli ordini superiori al prezzo fissato l'accordo di federfarma è ovviamente ben accetto alle farmacie associate ma in attesa che si passi dalla teoria alla pratica nessuno vuole rischiare di smenarci coronavirus la proposta invalsi test per misurare le competenze apprese dagli studenti durante i mesi di didattica a distanza le prove spiega il direttore paolo mazzoli non saranno obbligatorio ma a discrezione dei singoli docenti non hanno alcun significato valutativo ma vogliono essere una misurazione per scopi di progettazione didattica covid quadro stabile aumentano i guariti e diminuiscono i ricoverati ma ancora 323 morti migliora la lombardia non il piemonte sono salite a 27.682 le vittime con un incremento di 323 in un giorno ieri l'aumento era stato di 382 guariti invece sono 71.252 con un incremento di 2.311 rispetto a ieri quando l'aumento era stato di 2.317 unità prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri con terapia intensiva coronavirus travaglio sulla 7 dice il numero dei morti oggi è il doppio di quelli di inizio lockdown come si può chiedere di riaprire tutto le accuse di eccessiva prudenza contro conte per il dpcm sulla fase 2 dice vedo che tutti quelli che lo attaccano perché vogliono riaprire tutto peraltro sono gli stessi che fino a 15 giorni fa lo accusavano di non aver chiuso abbastanza stanno facendo la figura di willy il coyote con bip bip quando prepara trappole della ditta acme della ditta acme poi puntualmente gli esplodono in faccia così a 8 e mezza sulla 7 insomma il direttore del fatto quotidiano marco travaglia esordito nel suo commento sulle recenti polemiche relativa al dpcm del presidente del consiglio per la fase 2 cornavirus l'inghilterra è il terzo al mondo per numero di morti sono più di 26.000 in svezia oltre 20.000 contagi crescono vittime in spagna e brasile borsonaro minimizza e riapre attività la germania limita i viaggi fino al 14 giugno e si procura fino a 4,5 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale affrontarla oltre al cornavirus potrebbe mettere sotto pressione il sistema sanitario tedesco il presidente il brasile supera la cina per il numero di decesso ma bolsonaro riapre alcune attività l'olanda 145 vittime il dato più alto della settimana oltre 2400 morti in svezia coronavirus l'oms scrive che allo studio un'eventuale correlazione con sindrome kawasaki e la svezia possibile esempio di convivenza col virus sappiamo del piccolo numero di bambini che hanno subito una risposta infiammatoria è successo in uno in uno due paesi ed è una condizione molto rara ma stiamo esaminando la situazione insieme al nostro network di clinici questo ha assicurato maria van kercove responsabile tecnico per il coronavirus dell'organizzazione coronavirus problemi di liquidità voucher al posto dei rimborsi per i biglietti aerei la lettera di 12 paesi alla commissione europea la normativa attuale impone rimborsi in denaro ma adesso metterebbe in ulteriore difficoltà le compagnie la richiesta è stata avanzata durante la videoconferenza dei ministri dei trasporti con lo scopo di preservare il mercato dell'aviazione oltre la crisi causata dalla pandemia l'italia non è tra i firmatari cari amici con questo è tutto termina qui questa seconda edizione di oggi della rassegna stampa e studio con voi rosario morirò buon proseguimento con la programmazione iscriviti al canale